al teatro, alle commedie, è nel tuo sangue, è quello che vuoi, ti piace fare, parlaci di questo ultimo anno. Lo hai detto, sta nel sangue, ma io vengo proprio dal teatro e ogni tanto ci devo ritornare. Allora, come è stato ampiamente detto, l'appuntamento è in questo posto in arte vesuvio affezionato, sì, gli affezionati dicono IAB, in arte vesuvio, proprio il primo teatro sul mare, per questo cartellone che quest'anno mi vede, diciamo così, abbastanza presente. Non dimenticate che il 29 c'è natalizia, questo spettacolo di Natale, tutto su un Natale internazionale e napoletano. Il 26 gennaio tornerò con il grande artista, è un altro escursus sulle tradizioni popolari, sul teatro napoletano, però il cartellone è ricco. Io invito tutti gli amanti di Napoli, del teatro, dello spettacolo in genere, di collegarsi con le pagine social dell'Inarte Vesuvio, dello IAB, perché gli eventi sono tanti, sono numerosi e soprattutto sono per tutti i gusti. E' un, per tutto, diciamo, questo pubblico che è esigente, che ama la musica, che ama il teatro, che ama la cultura partenopea. Mi consiglio, andate sulla pagina, andate a vedere che si tratta, mi raccontate, mi raccontate sempre, mi raccontate gli amici. Io vi aspetti a 29 in poi. Prima di salutarsi, però, il teatro napoletano che sta esplodendo come questa città che torna alla ribalta del mondo. E' un bel momento, no? E' una bella pagina che questa città sia sdoganata in tutto il mondo ormai. E' un grande autore, due anni, Napoli, dopo la Cuscenica, dove tutti quando stanno e recitano a Mizzami. No, effettivamente c'è questa esplosione del teatro, per fortuna c'è un ritorno nelle sale, perché è vera, prima televisione, c'è stato il teatro, poi c'è stato il cinema, poi c'è stato lo streaming, però il teatro è sempre il teatro, il contatto, l'empatia tra il pubblico e gli attori è primordiale, quindi vive il teatro, ma se non ponete, non facciamo niente, non facciamo niente. Un saluto agli amici di Mano TV. Ciao, come si chiamano gli affezionati di Mano TV?